Buongiorno a tutti, oggi è martedì 24 marzo, ascoltiamo il Vangelo secondo Giovanni, capitolo 5, versetti dall'1 al 16. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi, paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse, vuoi guarire? Gli rispose il malato, signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me. Gesù gli disse, alzati, prendi la tua barella e cammina. E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito, è sabato, non ti è lecito portare la tua barella. Ma egli rispose loro, colui che mi ha guarito mi ha detto, prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora, chi è l'uomo che ti ha detto, prendi e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco sei guarito, non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù perché faceva tali cose di sabato. Oggi il Vangelo ci mostra una guarigione che descrive il percorso di ciascuno di noi verso una riconciliazione della nostra umanità bloccata nel peccato. Apre e chiude il testo la collocazione temporale di questo miracolo che è molto interessante anche per questa simbologia che contiene questo contenuto di questa riconciliazione che il Signore fa con l'umanità. La cornice temporale è il giorno di Shabbat che non è un caso perché questa guarigione, chiamiamola così, che Gesù compie è segno della guarigione di Dio per tutta l'umanità, come ho detto. Una guarigione che riconcilia Dio con la creazione che nel giorno di Shabbat è proprio chiamata a onorare il suo creatore e a riconoscere in lui l'autore della propria vita perché lo Shabbat è il giorno in cui la creazione si volge verso il suo creatore e si rinnova nella lode. Il miracolo raccontato ha come protagonista un malato che, il testo ci dice, è in uno stato di malattia da 38 anni. Gesù gli rivolge una domanda Vuoi guarire? E già questa domanda ci fa percepire che probabilmente quest'uomo era giunto a un punto in cui aveva perso la speranza di guarire e sotto sotto non voleva guarire infatti non risponde sì, lo voglio. Ecco allora la vera guarigione questa riconciliazione che Gesù offre a quest'uomo e a tutti noi alzarsi dalla situazione di adattamento in cui si era ormai adagiato dopo 38 anni quest'uomo viene spinto ad alzarsi a prendere la propria barella cioè tutto quello che aveva e camminare mettersi in movimento ecco allora oggi che in noi si compie quest'opera di nuova creazione attraverso l'annuncio di questo Vangelo che è la pace di un nuovo Shabbat atteso e non più sperato da noi Cristo Gesù viene a ridare questa speranza nuova a rimettere la vita lì dove ci siamo adagiati Egli si fida di noi desidera che anche io e te oggi ci alziamo sopra la situazione che stiamo vivendo prendiamo questa nostra vita e decidiamo di camminare per realizzare la nostra esistenza verso l'indicazione che Lui ci dona stiamo vivendo una situazione di prova di desolazione lo sappiamo ed è vero ma oggi Gesù ci chiede di non adattarci a questa situazione lasciamo rifiorire in noi la speranza di un domani migliore di una possibile uscita dal male che ci affligge non lasciamo che questo tempo quindi passi senza aver considerato tutta la nostra vita senza aver fatto la scelta che ha fatto questo paralitico alzarsi prendere in mano il lettuccio e camminare cercare una via di uscita un modo nuovo per cambiare vita per riprendere forze non restare fermo lì a subire ancora ma scegliere di cambiare di reagire con la fede e con la preghiera che oggi sono le uniche possibilità di azione che abbiamo siamo messi in una situazione in cui le uniche possibilità che abbiamo sono pregare e utilizzare la fede che ci è data allora queste queste possibilità che abbiamo sono molto limitate ci sembrano forse per alcuni anche inutili invece sono le più potenti ci fa capire oggi il Vangelo perché possono cambiare lo stato della nostra vita prima del nostro cuore e poi con esso la nostra vita e non solo possono cambiare le sorti del mondo buona giornata